Vi ringrazio proprio per questa attenzione, per il mio particolare che ho avuto. Ringrazio tutti quanti voi per la stima grande che tanti di voi mi hanno sempre dimostrato. Spero di per scontarla anche del riflesso che può avere questo tipo di nomina sulla Chiesa di Gesang. Penso, spero almeno, di poter far amare questa Chiesa anche perché io cerco di impegarmi a portare dove il Signore mi manda, portare l'esperienza, portare gli stimoli, portare il progettualità che di fatto la nostra Chiesa di Gesang va realizzando di continuo. Dicevo, ringrazio a voi, ma potete ricordare, io stavo chiamando Don Vento, perveglielo prima, no? Ma chiamando, non potete ricordare così tanti sacerdoti, portate, potete ricordare, per la tua Nicola e Don Marzio, perché il Verrindolo mi hanno conto molto, davvero. Questa è la Tommaso, questa è la Tommaso, la Tommaso, e poi tutti quanti gli altri, se ci sono voluti, sicuramente, dicendo come dire, mi parlò di prima, e poi ecco l'affetto scontato. Ah, bravo, scusate. Io insieme a questo partenere Magnazco, un'ordinazione a fare a voi il 25 febbraio, quindi a noi in Cattedrale, la Corte della Stabilità. Comunque abbiamo parlato con noi anche noi, Pieroli. Grazie. Ok. Grazie.